Il libro di Giovannino Renzullo, presentato a Macchia Godena, non ha alcuna pretesa letteraria, ma è semplicemente una testimonianza, un insegnamento di vita. È scritto con il cuore i miei 20 anni a Macchia Godena. Può essere la storia di tanti molisani che hanno vissuto i cambiamenti dell'Italia e soprattutto del Mezzogiorno, negli anni a cavallo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il boom economico. Un'autobiografia semplice, ricordi e sentimenti messi su carta che fanno emergere l'animo di un uomo onesto, con una vita dura intrisa di dolori e tragedie, ma che ha saputo trasformare le avversità in forza, in voglia di vivere e di trasmettere il meglio agli altri. Una storia, quella di Renzullo, che parte nel 1945, quando nasce in una borgata di Macchia Godena incoronata, poverissima. Il durissimo lavoro nei campi, le ferite della guerra, le enormi difficoltà a sfamare tanti figli senza rancore. Renzullo racconta di come i genitori, come facevano tanti all'epoca, lo abbiano lasciato fino ai nove anni con una zia in paese, perché non riuscivano a mantenere l'intera famiglia, le conflittualità con la madre, l'infanzia rubata, ma non priva di alcune gioie e di incontri piacevoli, di luoghi e situazioni, tradizioni. La tragica morte del fratello scrive di amori e rimpianti, del muro, delle differenze sociali, ma anche ai difatti nefandi, abusi consumati in silenzio, della scoperta del sesso, traumatica con una donna matura. Il lavoro come fa legname, descrive artigiani e contadini, un paese che come tanti si è spopolato per l'immigrazione, che lo stesso Renzullo ha vissuto andando prima a Roma e poi nel Belgio, le avversità, ma tornando sempre a Macchia Godena, avendola nel sangue e nel cuore, Macchia Godena come entità capace di essere vera madre. Un racconto non idilliaco, ma di una realtà arcaica che ha formato Giovannino Renzullo come uomo, padre, marito, che gli ha insegnato a vedere il mondo come meraviglioso, che offre giorno e notte uno spettacolo unico, nonostante tutto, nonostante le avversità, perché sostiene Renzullo ciò che ci rende forti e l'amore per gli altri e quello per noi stessi. Ecco perché viviamo.